T-Max, parola d'ordine per Yamaka, che a Lakema si presenta con la terza edizione del suo best seller della mobilità. Solo in Italia più di 115.000 T-Max venduti, oggi il Maxi Scooter è completamente rinnovato, confermati i capisaldi che hanno decretato successo, guida motociclistica, comfort ed estetica vincente. A dispetto dei rumors la cilindrata cresce poco, solo 30 centimetri cubi, quel tanto che basta a Yamaha per parlare comunque di rivoluzione. Nessuna variazione di prezzo che rimane identica al precedente. Tecnologia invece che arriva prepotente anche sulla Yamaha R1, che acquisisce l'elettronica del Traction Control TCS regolabile su sei livelli, e soprattutto rimane confermato lo scoppio irregolare del quattro cilindri con le tre modalità di funzionamento. Cambiano alcuni dettagli estetici e arriva la grafica optional anniversary dei 50 anni di gara Yamaha.